ciao sono Antonio, senti io sono l'operaio della luce del gas del vino, te c'è il piosservativo, che ti mando il 118, diritto a marcia o vuoi? come stai bene? come stai bene? come stai sotto? stai sotto o sopra? stai sotto o sopra? sono da un lato, ti sbiego, ti sbio e propongo, ti propongo un piu' bravo bravo, non ti muo' eh? non ti muo' 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 ma no, è Cesare o è quello che c'è la montagna chi è? chi è? la c'è Cesare? dov'è? dov'è? dico muo' non c'è la moglie sotto? pronti? ma passi tua moglie no non c'è, è uscita è uscita? ma che c'è l'e d'oie dai passi l'accio, non ti puo' chiedi l'argo non ti puo' non ti puo' non ti puo' chiedi l'argo chiedi l'argo chiedi l'argo chiedi l'argo chiedi l'argo tu muori no no tu non muori tu muori tu muori c'è il tumore tu sei il tumore biondo tu muori o no? sei colombo e se mannano il tumore 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 è tutta spicciolata è una spicciolata sta registrati ciao io sono andata dentro del bosco quest'anno io mi sono inseto e ce l'avevo duro e allora tutti sono scappati nel bosco poi mi hanno potuto prendere il bosco proprio perché ero sboccata la gomma dove stanno andate con i guassi? mi sa che ci fanno un sacco di cazzi e quindi senti 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 ho senti 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 senti... perش ha un sacco di t트 tutti i cazzi tu hai? no, se lo vieni con noi vi faccio il sacchetto bravo, bravo, bravo quanti siete, quanti siete? fatti i cazzi tui e tutti i tuoi anzi, fatti i sacchetti ma ci avete mai con una donna? tutti con tre uomini, fai a me? oh, hai detto tutti tre uomini hai detto no, qui sono tutti diversamente donne diversamente donne sì, perché? guarda, sento, sento una cosa io adesso, no, no, guarda io adesso vado a fare nano baba? faccio babbo, babbo, babbo un altro regalino le perlini pure no, faccio babbo adesso, amico, io sono tatiano con l'opera, tutto quanto faccio una notte faccio una notte mando tantos baci tantos baci vabbè io ti mando primo bacio poi ti mangio secondo braccio e poi ti ricordo sempre questo rumore io ti ricordo questo rumore particolare sento adesso come masculaccio 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 la bolletta mi ha parinti la bolletta? mi ha parinti la bolletta mi ha parinti la bolletta? mi ha parinti la bolletta? ma ma che ti sei rifatto? ti sei rifatto? rompe? no, non ci parlate ci sei sono andato a dormire sono andato a dormire va a fare nanna oh basta che te risvegli però eh te risvegli? speriamo 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 ciao ti presento mio figlio che si chiama Tozo eh speriamo speriamo che figlio sperma Tozo ciao per il cazzo te saluto aspetta che l'abbiamo registrato una parte del telefono aspetta fammi sentire via grazie a tutti